La sedicenne, Karol Bougin, risulta scomparsa da giovedì 16 novembre, dopo essere stata vista per l'ultima volta dalla madre nei pressi della stazione di Mestre, a Venezia. La famiglia ha lanciato un appello sui social, mettendo foto e descrizione della giovane e un numero di cellulare, al quale fornire notizie. La ragazza è alta 1,68, ha i capelli castani e occhi verdi, e molte lentigini sul naso, quando scomparsa indossava un giaccone nero e dei jeans. La segnalazione è stata rilanciata sui social network anche dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, e da Elena Cecchetti, la sorella di Giulia, la 22enne, trovata morta nella mattinata di sabato 18 novembre, nei pressi del luogo Bergis, vicino a Pordenone. Elena Cecchetti ha portato i dettagli della giovane Veneto scomparso sul proprio profilo Instagram, nella storia, accompagnata da un chiaro messaggio, vi prego, non di nuovo. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, campanella, notifica e un commento. Ciao!